bello io bentornati su real napoli football ragazzi abbiamo una vittoria spaventosa su real madide 4 1 andiamo a cercare subito il prossimo avversario l'avversario di questa puntata l'avversario che potrebbe regalarci la divisione 3 vediamo chi sarà nel frattempo come sempre se vi fa piacere lasciando like al video iscrivetevi al canale e soprattutto soprattutto commentate a fine partita per farmi sapere che ne pensate di quello che avete appena visto aspettiamo il sistema che ci dia l'avversario di questa puntata ragazzi vediamo se riusciamo a compiere finalmente questo miracolo di andare in divisione 3 avversario trovato avversario trovato e affronteremo esattamente la lazio napoli lazio napoli lazio partita dal sapore di serie a per questa partita estremamente decisiva andiamo avanti napoli lazio schema di gioco osi man sta down ragazzi porca puttana giochiamo col ciolito questa partita decisiva senza osi loro una grande squadra va bene così andiamo ragazzi andiamo al match la sconfitta ci non si può nemmeno dare la colpa al turnover per la sconfitta comunque si parte napoli lazio napoli lazio si parte il ciolito lo botca allarga per mario lui mario lui subito verso caraschella di nuovo per mario lui errore cominciamo molto male molto male digno dentro arriva però raccomani no valdo era l'impressione l'impressione credimi sono serate molto storte che capitano e meret la mette giù e rilancia lungo verso il ciolito simeone che appoggia politano errore di politano attenzione di lorenzo errore incredibile abbiamo iniziato malissimo non mi piace come abbiamo iniziato attenzione anghissà dentro raccomani palla per di lorenzo perdiamo ancora palla palla sanguinosissima persa foden il gol al digno un altro abbiamo iniziato male digno subito ci punisce ma iniziato male 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 simeone lo botca palla per raccomani allarga per giannino di lorenzo palla per politano dentro per di lorenzo palla per lo botca che va dall'altro lato da mario lui che mette la palla giù dentro il ciolito tacco per anghissà che vada al ciolito simeone peccato non era una brutta idea mario lui appoggia caras che è l'apersi dischi che la rita caraschelia che va dentro da anghissà la palla non passa attenzione caraschie dischi mario lui recupera palla ancora mario lui palla fuori palla per la lazio attenzione zi dischi ricopra palla no pensavo di sì invece no attenzione lo botca pronore riusci palla palla lo botca e vada caraschelia che fa correre il ciolito la palla non passa ter stegen attenzione arriva anche politano niente da fare si girano bene loro zi dischi recupera palla palla per politano dentro per il ciolito chiudono benissimo loro lo botca natan raccomani vada lobo palla per caraschelia dentro per zi dischi brutta palla di caraschelia attenzione caraschelia ricopra palla va dentro da zi dischi gran palla di caraschelia c'è zi dischi entra zi dischi interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa attenzione quara quara schelia palla fuori palla fuori di qui c'è quara schelia alciolo dalla sui piedi e smissa sulla fascia ok ok attenzione anghi sta palla per politano entra politano politano dentro per il ciolito la palla non passa la palla non passa forse poteva arrivare al tiro con politano attenzione dentro per digno se ne va digno mamma mia miracolo qui poi zi dischi anghi sta prova ad alzare questa palla per metterla fuori attacca la lazio forte c'è lo botca natan e lo botca palla verso caraschelia si ferma caraschelia attenzione dentro caraschelia caraschelia dentro per zi dischi per il ciolito simeone che va dall'altro lato raccomani attenzione palla per politano si ferma politano tacco per giannino di lorenzo arriva di lorenzo pedri difendono bene di lorenzo attenzione lo botca arriva mario lui si ferma mario lui mario lui allarga mamma io non brivido dacca vada schelia zi dischi palla per rosso per il ciolito quara dentro per il ciolito che può tirare sul portiere incredibile politano di testa attraversa ancora politano di testa ancora quel cazzo di politano ma mi so ma che re rimane e allo bufò pareggiamo ragazzi un pareggio incredibile caraschelia prova a dare una mano e recupera palla qui appoggia invece no perdiamo una brutta palla ronaldigno di lorenzo allarga per politano che cambia tutto verso qui c'è caraschelia che prova a far correre il ciolito simeone attenzione cavara simeone prova a dare una mano tornando indietro corre anche zi dischi su sala arriva natan anghissà dentro per zi dischi attenzione zi dischi cambia tutto verso matteo politano la palla non arriva però politano ternandez prova ad andarsene matteo politano riporre una gran palla politano dentro dal ciolito simeone il ciolito poggia per politano politano dribbling doppio dribbling se ne va politano crossa in mezzo la palla è sta fuori ciolito politano di lorenzo crossa in mezzo caraschelia caraschelia hai visto salvo siamo provando a mettere un po' di pressione terz tegan rilancia attenzione il ciolito un po' sfortunato qui come anche zi dischi mario lui si addormenta e passa sala passa sala c'è mario lui in recupero grandissimo anghi sta dentro per zi dischi che allarga per qui c'è caraschelia caraschelia vede dentro il ciolito simeone gran palla simeone va dall'altro lato verso politano che può arrivare al cross politano si fa bruciare da teo arnandez prova a recuperare politano che va dall'altro lato mario lui palla per cavara schelia dribbling di cavara che se ne va grandissimo cavara schelia dentro per zi dischi mamma mia terz tegan che cazzo ha preso che cazzo che ha preso sono avvinato questa difesa zi dischi attenzione palla verso il ciolito simeone di zi dischi zi dischi dal ciolito che prova a rimetterla in mezzo la palla non passa anzi riparte la lazio che deve recuperare lautaro natan lo ferma finisce qui il primo tempo uno a uno bella partita bella partita combattuta abbiamo tirato come al solito importantissimo abbiamo segnato abbiamo segnato un solo gol fino a due attenzione secondo tempo attenzione anghissà lobotca recupera palla lobo dentro pallare persa però malamente e zi dischi poi si mette tra il giocatore e la palla niente da fare ancora anghissà zi dischi mario lui allarga verso caraschelia che appoggia zi dischi zi dischi si ferma e va di esterno dall'altro lato una palla pazzesca per politano che appoggia ad anghissà uno due frettoloso anghissà peccato attenzione prona ripartire palla dentro arriva di lorenzo grande diagonale di di lorenzo emmeret rilancia lungo verso il ciolito attenzione anghissà allarga per politano scende politano che va dentro troppo troppo pretenzioso palla rilanciata lunga raccomani brucia lautaro poi però sta la recupera palla c'è lautaro ancora c'è ancora raccomani lo botca e anghissà il ciolito simeone errore del ciolito peccato di lorenzo niente da fare zi dischi attenzione lautaro nata palla verso anghissà che di esterno prova ad andare non mi ricordo da chi attenzione entra ronaldigno chiude natan e di lorenzo palla ancora da politano politano vede dentro il ciolito simone gran palla di politano se ne va il ciolito il ciolito fermato il ciolito senza fallo qua vabbè anghissà non riesce a regolare palla e dentro per ronaldigno digno arriva natan ancora diagonale pazzesca di natan perdiamo palla però qui c'è teo politano ripling di politano si ferma politano politano vede dentro anghissà gran palla di politano poli anghissà prova a crossare calcio d'angolo calcio d'angolo calcio d'angolo vanno almeno di pausa andiamo anche noi andiamo anche noi abbiamo elmas olivera on fire metto olivera al posto del maestro l'instrom al posto di politano che sta giocando bene ma chiaramente molto molto stanco non mi voglio sbilanciare voglio oltre col trequartista preferirei evitare per il momento penso che va bene così anche se c'è il giacomino al posto di simeone quasi 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 metterei il giacomino al posto di simeone eh no fra anghissà anghissà mi scopro metterei più elmas al posto di zelo si raspadori al posto del ciolito e vai metto anghissà al posto di zelo un po' di freschizzo vai 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 va bene così dai 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 cazzo ragazzi dai cazzo dai cazzo lo botca farò sta di lorenzo lo botca verso giannino di lorenzo che prova a spizzare niente da fare attenzione ronaldigno anghissà recupera anghissà palla per elmas raspadori palla ancora in calcio d'angolo porca puttana porca puttana lo botca attenzione lo botca proverà ad andare ancora da giannino di lorenzo che prova a spizzarla la palla resta lì raspadori prova a dare una mano recupero veloce arriva elmas che culo che culo raspadori attenzione però ancora a pressare niente da fare elmas gran ricopropalla di elmas con raschelia dentro per giacomino raspadori raspadori si ferma raspadori non a bocca alla finta arriva elmas ancora è rimessa dal fondo incredibile proviamo a buttarci un po' in avanti terstegno rilancia lungo raccamani lo botca lo riesce a recuperare anghissà lo botca poi ricopre la palla e la dà l'instrom che appoggia giacomino raspadori per anghissà no 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 si è allungato la palla peccato elmas dentro non è fuori gioco mamma mia meretta che cazzo ha preso elmas era fuori gioco è Aldo lo so spesso mi dimentico comunque il miracolo di meretta ragazzi che ci tiene in partita a calcio d'angolo va Olivera Olivera si fa anticipare da Dembele Olivera non così ragazzi non così non così digno arriva Nathan e poi l'instrom appoggia per anghissà dentro per giacomino raspadori che prova a far correre niente da fare ragazzi raspadori recupera la palla raspadori Olivera elmas anghissà raspadori fa correre Kvarraskelia Kvarraskelia appoggia per raspadori dentro per elmas va elmas 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 dentro per raspadori che non arriva al tiro peccato qui provano a correre indietro corre indietro anche Olivera verso Dembele Nathan arriva Nathan no si fa bruciare Nathan attenzione cross in mezzo e Vinicius la mette fuori siamo ancora in gara dieci minuti ragazzi siamo ancora in gara Meret rilancia lungo verso raspadori attenzione lo botcano lo bo qui attenzione Nathan appoggia per Rachmani verso Di Lorenzo freddo qui Rachmani Di Lorenzo appoggia per anghissà la palla non arriva dall'altro lato prova a ripartire ancora la Lazio con lo botca che chiude su Ronaldinho proviamo a spazzare ragazzi Di Lorenzo palla per anghissà per l'instrom l'instrom dentro per anghissà che fa correre Giannino Di Lorenzo Di Lorenzo dentro direttamente tra spaduri Olivera attenzione perché di Olivera maronna Sand perché si allungano sta palla Nathan niente da fare Pempe mamma mia qui ce la capiamo lo botca anghissà dentro per raspadori niente 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 Di Lorenzo dentro per l'instrom l'instrom provano ad andare subito Gesù Cristo Gesù Cristo anghissà dentro anghissà si ne va anghissà palla per raster l'instrom l'instrom dentro anghissà no ma dai ragazzi dai 1-1 porca troia 1-1 vabbè proveremo ad andare in divisione 3 alla prossima in alcuni momenti è sembrato